No, è proprio vero, eh! Tu ste monde, com la giri la giri, manda sempre le donne! Lucio, vi aspettavate questo successo? Beh, effettivamente qualche dubbio l'avevamo, perché siamo tornati a Politeama dopo tre anni, l'ultima data è stata 2019, poi a causa del Covid abbiamo avuto, abbiamo dovuto fermare l'attività e fortunatamente abbiamo avuto prima una gran richiesta di biglietti sulla fiducia, poi queste prime tre date, 27, 28 e 29, che abbiamo già rappresentato, abbiamo avuto un grande successo di pubblico, tant'è che abbiamo dovuto aprire una nuova data, lunedì 3 di aprile. Ecco, e anche per quella data già molti biglietti sono stati venduti. Effettivamente il Tam Tam, il gradimento di quelli che sono venuti a vedere le prime tre serate, ci hanno già fatto vendere buona parte della serata di lunedì prossimo. E com'è possibile per notare? Si può fare in due modi, o vi recate direttamente al Politeama e acquistate il biglietto, oppure anche semplicemente telefonando al numero che vedete in questo momento, solo per l'impressione, produttate il biglietto e ritirate la sera stessa, lunedì prossimo. Andiamo a ricostruire il nostro nido d'amore? Sì, 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 sì. Tornerete in scena anche la prossima estate? Ancora la stagione chiaramente è da organizzare, vediamo di finire bene la stagione invernale. Poi sicuramente qualcosa faremo, abbiamo già delle collaborazioni da tanti anni con tanti comuni, con l'Arena BGC, poi vedremo che cosa ci propongono e cosa riusciremo a fare. Grazie. 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 Grazie.